Perché Slemix? Sono stata invitata da Andrea che ho conosciuto durante una presentazione di un libro in cui io facevo la lettrice. Sono stata super felice di accogliere questo invito perché sapevo che questa cosa esisteva, ma sono felice che mi abbia invitato e penso che 1.100, 1 milioni di miliardi di spazi come questi e di possibilità per ascoltare delle cose belle. E per vederle cose belle. E per vederle, sì. Volevo chiederti qualcosa sui tuoi progetti futuri. Spero di semplicemente continuare a fare quello che sto facendo, quindi lavorare tra l'arte e il teatro in un modo trasversale e farlo con più agilità e probabilmente grazie a posti come il Conchetta è possibile.